Noi siamo un partito, diciamo che abbiamo un'idea locale che ci accomuna tutti, abbiamo un'idea di città e di come la comunità della città. Devo dire che non siamo partiti, ma a me la politica non passa più buono, abbiamo scritto la mala politica che è un'altra cosa. Vi dico qualche esempio che esistono, la politica è una cosa buona, la cosa che ci governa è una cosa che ci hanno visto. Vi dico solo un'altra cosa, mi unisco all'appello dei video, informatevi, quanti genti programmi, fate un'idea sana. Quello che dovete fare, abbiamo uno strumento in più che c'è nelle comunali rispetto alle nazionali. E oltre a scegliere il cambiato sindaco, scegliete anche il consiglio comunale che vi piace di più. Informatevi, ce ne sono tanti della vostra età che conoscete, ne abbiamo 10 ragazzi su 30 che hanno i 30 anni. Mettete la preferenza, il nostro programma lo trovate su progettourbano.org. Grazie.